Un anno ricco di celebrazioni per la famiglia Lì, che si conclude con un compleanno speciale, quello di Francesco Canella, che di Lì, dal 1971, è fondatore e presidente e che oggi, 28 dicembre, si appresta a spegnere 90 candeline. Un altro importante traguardo, raggiunto da questo imprenditore lungimirante dal cuore gentile, che i suoi affezionati 4.500 collaboratori non mancano di festeggiare. Francesco, sei come un padre che ascolta, un amico che consiglia, un fratello che accompagna. Grazie, perché senza di te la grande famiglia Lì non esisterebbe. Grazie per i valori che ci hai trasmesso. Buon compleanno, Francesco Canella, da tutti i collaboratori a Lì. Questo è il testo dello spot radiofonico in onda nelle maggiori emittenti locali, lo spot che ascolterà Francesco nel suo tragitto da casa al lavoro. Anche nelle pagine dei quotidiani, che è solito leggere ogni mattina, una pagina che i suoi 4.500 collaboratori hanno voluto dedicargli come tradizione vuole. Infine, anche le affissioni della città, con lo stesso caloroso augurio, manifesti apparsi sul percorso che Francesco fa ogni mattina per recarsi nella sua tanto amata azienda, anche alla veneranda età di 90 anni.